Anticipazioni Terra Amara. Kolak accompagna Betul a casa con l'intenzione di parlare con sua madre. Mentre la attende in macchina, Betul nota Sermin e le offre un regalo. Tuttavia, Sermin reagisce furiosamente, rivelando che Betul non ha più una casa né una madre. In preda all'ira, Sermin afferra Betul per un braccio e la trascina fuori, accusandola di essere l'amante di un uomo che potrebbe essere suo padre. Le urla di Sermin richiamano l'attenzione degli abitanti della tenuta, che assistono e commentano la scena. Betul ribatte, accusando Sermin di gelosia per la sua giovinezza, e quest'ultima, offesa, la schiaffeggia. Kolak interviene prontamente, portando via Betul mentre Sermin le urla di non tornare mai più. Una volta al sicuro, Betul piange disperata, ma Kolak la conforta, assicurandole che sua madre la perdonerà. Zuleia, dopo aver assistito alla scenata tra Sermin e Lutfi, spiega che Sermin pensava che Kolak volesse sposarla. La donna esprime compassione per Sermin, costretta a dipendere dagli altri nonostante la sua fama e ricchezza. Ringrazia anche Dio per la salvezza di Fikret, che evita così di doversi sposare con Betul. Il giorno seguente, Zuleia e Lutfi sono in ansia in attesa di notizie. Alla radio giunge la triste notizia della morte di alcuni cittadini turchi in Libano. Lutfi, visibilmente scossa, esce in giardino a pregare. Ma poco dopo arriva Fikret con Cetin, che le rassicura sul suo stato di salute. Anche Zuleia corre ad abbracciarlo, mentre Fikret spiega che, nonostante sia stato colpito da un proiettile, sta bene. Zuleia si sente in colpa, ma Fikret la rassicura, affermando che la sua presenza in Libano è stata una scelta sua. Infine, rivela a Zuleia che Mehmet Karan non è Akan Gumusoglu, e che sono tutti vivi grazie a lui, poiché a Beirut ha salvato le loro vite. In quel momento, Akan arriva e Zuleia gli sorride, andandosene con lui. Mentre sono in macchina, Zuleia chiede a Akan se potrà mai perdonarla per aver pensato che fosse Akan Gumusoglu e per aver mandato Fikret in Libano per indagare. Akan le risponde che non c'è bisogno di scuse, comprendendo la difficoltà della sua vita piena di nemici e capendo i suoi sospetti. Fikret è in azienda con Cetin e confessa di non sapere se sia giusto non dire a Zuleia che Mehmet e Akan Gumusoglu. Cetin gli ricorda che Akan ha salvato loro la vita quando non era obbligato a farlo. potendo ucciderli senza che nessuno lo sapesse. Perciò, non lo considera crudele come lo dipingono. Fikret chiede perdono per averlo coinvolto a Beirut, mettendo così in pericolo la sua vita, ma Cetin gli assicura che, anche se non sono legati da sangue, lui è suo fratello e lo proteggerà sempre. Betul è sola a casa di Kolak quando viene sorpresa da Kadir. Temendo di essere scoperti, gli chiede di andarsene. Kadir, desideroso di sapere l'offerta che Kolak farà, le chiede la cifra e promette di andarsene. Betul risponde che Kolak non ha ancora deciso e gliela comunicherà non appena lo saprà. Kadir la bacia improvvisamente, lasciando la sorpresa, e Betul risponde al gesto. Successivamente, si confronta con Kolak, accusandolo di nasconderle l'offerta per la gara nonostante lei sia il suo avvocato e rediga tutti i suoi contratti. Gli chiede se non si fida di lei. Kolak risponde ricordando il suo passato di tradimenti e il tempo trascorso in prigione per aver fiducia in qualcuno. Vaap va da Fikret per chiedergli indietro la sua cassetta, ma quando la apre e la trova vuota, si agita e lo minaccia di ucciderlo se non gli restituirà ciò che gli appartiene. Fikret risponde che manterrà i patti, ma non restituirà la collezione da pervertito, scatenando così la furia di Vaap. Fikret interroga Vaap sul motivo per cui conserva oggetti personali di Zuleia. Vaap risponde bruscamente, affermando che Zuleia non significa nulla per lui. Fikret lo minaccia, avvertendolo di non avvicinarsi più a Zuleia, altrimenti ne pagherà le conseguenze. Furioso, Vaap se ne va, giurando vendetta per essere stato ingannato. Nel frattempo, Kolak consegna a Betul il file con la sua offerta finale per la gara dell'esercito e le assicura che con quella cifra conquisteranno il contratto. Rimasta sola in ufficio, Betul chiama Kadir, entrambi emozionati nel rivedersi. Betul gli chiede di annotare la cifra che Kolak offrirà per la gara. Poi si salutano con sguardi che rivelano il loro amore nascente. Poco dopo, Kadir incontra Akan e gli consegna la cifra data da Betul. Akan chiede se possono fidarsi di lei, e Kadir garantisce la sua integrità. Successivamente, Akan convince Zuleia a ridurre la sua offerta per una gara d'appalto, avendo appreso l'offerta di un'importante azienda di Antalya. Zuleia, seppur sorpresa, ha consente. Una settimana dopo, durante una serata a Canne, Zuleia e Betul partecipano all'evento per conoscere i risultati della gara d'appalto presso il circolo cittadino. Tra gli altri imprenditori presenti, c'è anche Kadir. Nel frattempo, Kolak è a casa con Betul, ma lei non si sente bene e non vuole accompagnarlo. Kolak, determinato a dimostrare il suo potere, la costringe ad andare. Durante l'evento al circolo, tutti attendono l'annuncio del vincitore, che sarà trasmesso in tv alle 21. Quando Kolak entra con Betul, Kadir è sbalordito, mentre gli altri commentano su una possibile parentela tra Betul e Kolak, suggerendo che lei sia con lui solo per denaro. Akan, notando l'atteggiamento di Kadir, lo calma. Durante il banchetto al circolo Kolak emerge con sicurezza la convinzione di vincere. Betul, improvvisamente, si alza dal tavolo, lamentandosi di un malessere. Kadir la segue fino al bagno, dove la bacia impulsivamente nonostante le obiezioni di Betul, preoccupata di essere scoperta. Kadir le confida che quel gesto ha significato molto per lui, soprattutto dopo averla vista con Kolak. Betul supplica a Kadir di lasciarla andare, ma lui le rifiuta il ritorno da Kolak, proclamando di averla reclamata per sé. Nel frattempo, Kolak, notando l'assenza di Betul, va a cercarla nel bagno. Trovandola occupata, bussa alla porta, chiamandola. Betul, liberatasi da Kadir, raggiunge Kolak, mentre anche Kadir ritorna in sala. Nel frattempo, alla radio si annuncia che la competizione indetta dalle forze armate per la fornitura di agrumi è stata accanita. Con l'Adnan Yaman Holding di Kukuroba che emerge come vincitore grazie all'offerta più bassa. Zuleyha è radiosa, mentre Kolak è sorpreso, suscitando gli applausi degli astanti. Il presidente della Camera di Commercio si congratula con Zuleyha e Akan. Quest'ultima ringrazia tutti, sottolineando il duro lavoro della sua holding non solo per se stessa ma anche per i suoi dipendenti. Affermando di aver vinto non solo per sé ma per tutta Kukurova. La notte avanza e Fikret si trova nella villa, dopo essersi offerto di badare ai bambini in assenza di Zuleyha e Lutfi. Si addormenta nella loro camera. Nel frattempo, Vaap, indisturbato, si introduce nella villa, irrompendo nella camera di Zuleyha per annusare i suoi indumenti e rubarle una bottiglietta di profumo, oltre a una scarpa e una borsa. Fikret, svegliatosi nella camera vicina, affronta Vaap, lo colpisce e lo costringe a restituire ciò che ha rubato, cacciandolo poi via dalla villa. Vaap, infuriato, giura vendetta. Dopo la serata al circolo, Akan e Zuleyha decidono di fare una passeggiata lungo il lago. Zuleyha, con il cuore in gola, chiede a Akan se può perdonarla per aver rimandato i loro progetti con le sue incertezze. Ma ora è determinata a essere felice con lui e gli chiede di sposarla, se ancora vuole. Akan, con amore negli occhi, la abbraccia forte, dichiarando che non desidera altro che lei al suo fianco. Mentre la notte avanza, Kadir torna nella sua officina e fa una scoperta sconcertante. Trova Vaap legato a un furgone, mentre Fikret, con una pistola in mano, lo minaccia. Fikret accusa Vaap di aver rubato gli oggetti personali di Zuleyha. Kadir, incredulo, chiede spiegazioni, ma Vaap nega tutto, iniziando a inveire contro Fikret. Tuttavia, Fikret è determinato e avverte Kadir di tenere d'occhio il fratello, minacciando di ucciderlo se lo vedrà ancora rubare gli oggetti di Zuleyha. Kadir, agitato, guarda suo fratello e gli chiede chiarimenti. Vaap tenta di giustificarsi dicendo di collezionare quegli oggetti e di averci lavorato duramente per radunarli. Questo non basta a placare la rabbia di Kadir, che lo avverte severamente, se lo scopre coinvolto in altre troffe, non esiterà a ucciderlo con le sue stesse mani. Poi se ne va, lasciando Vaap legato al furgone. Nel frattempo, quando Kolak torna a casa con Betul, la affronta furioso, accusandola di tradimento e di complicità con Zuleyha, in quanto era l'unica a conoscere la sua offerta. Betul, con voce tremante, giura la sua innocenza, sottolineando che non ha alcun motivo per aiutare Zuleyha, che l'ha persino cacciata di casa. Le parole di Betul riescono a convincere Kolak che cerca disperatamente il suo perdono. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!